Festa a te ma me contro te, la coppia più amata del web. Ciao, io sono Gianni Leonardi, titolare e fondatore di Restare Animazione. In questo video ti spiegherò nel dettaglio come si svolge la nostra festa me contro te. Pensata per una fascia di età che va dai 6 ai 9 anni, racchiude al suo interno una serie di giochi e attività legate al mondo di lui e Sophie, riportate chiaramente ai compleanni. Andiamo a vedere nel dettaglio. Questo comprende due animatori fino a un massimo di 20 bambini, chiaramente te lo consigliamo per un'ottima gestione della festa, cassa, audio, musica, microfono e tutto quello che serve per l'intrattenimento lo porteremo noi. Sul posto ci serve solo una presa di corrente. Andiamo nel dettaglio del programma. Faremo un'accoglienza con una cornice a tema me contro te, una cornice tematica. Faremo queste foto al festeggiato insieme a tutti gli invitati, man mano che arrivano e te le manderemo su whatsapp alla fine della festa. Ti rassicuro subito del fatto che non li pubblicheremo in nessuno dei nostri canali, chiaramente per una questione di privacy. Appena sono la metà, un po' più della metà, iniziamo a farli divertire. Abbiamo il primo gioco che sostanzialmente sono delle sfide challenge, con la ruota challenge, proprio quella che usano lui e Sophie nei loro video. In ogni spicchio della ruota scriveremo delle sfide e delle attività diverse, chiaramente le adattiamo in base alla facilità, alla location e ai bambini che ci proviamo di fronte, ma comunque va del festeggiato potrà di volta in volta girare la ruota e sceglie l'attività da fare tra balletti, sfide, penitenze e tutta una serie di attività che inseriamo proprio tra le sfide challenge. Successivamente faremo la caccia agli indizi del signor S, una sorta di caccia al tesoro in cui nascondiamo una serie di indizi per la realizzazione dello slime. Chiaramente alla fine di questa caccia gli chiederemo ai bambini cosa si può realizzare con tutti quegli ingredienti, loro ci risponderanno lo slime e ci apriranno le porte alla seconda parte della festa in cui faremo fare loro un vero laboratorio dello slime durante il compleanno. Portiamo i tavolini, le sedie e tutto il materiale necessario, ogni bambino potrà creare il proprio slime all'interno di un barattolino che si porterà a casa. Chiaramente è un'attività fatta con la massima gestione degli animatori che verseranno tutti i singoli ingredienti ai bambini e loro col cucchiaino chiaramente realizzeranno lo slime. Poi lo chiudiamo con un tappo, scriviamo il nome e se lo portano a casa alla fine della festa. A questo punto è passata più o meno un'ora e quaranta dell'inizio della festa, iniziano ad avere fame e il mio consiglio è quello di farli mangiare. Patatine, rossicceria, tavola calda, qualsiasi cosa tu hai previsto per loro perché poi ci avviamo alla parte finale della festa in cui li faremo scatenare con la Me Contro Te live show. In pratica portiamo il videoproiettore e il telo e proiettiamo i video con le canzoni, i balletti più famosi di Me Contro Te e tutti gli invitrati potranno ballare, cantare, scatenarsi al ritmo delle canzoni di lui e Sophie. Poi ci avviamo alla parte finale della festa con l'apertura dei regali e il momento della torta. chiaramente tutto con l'assistenza dei nostri animatori. Questa festa ha una durata di tre ore e costa solo 249 euro, tutto incluso nella città di Catania e provincia. Se ti trovi a più di 15 chilometri in distanza da una delle nostre sedi c'è un piccolo costo extra di benzina da aggiungere e lo trovi in fondo a questa pagina nella tabella delle trasferte. Se vuoi rendere questa festa ancora più speciale abbiamo creato una versione premium price al suo interno oltre alla versione basic, quindi tutto quello che ti ho descritto fino a questo momento abbiamo aggiunto la macchina dello zucchero filato, le teste mobili a led che renderanno il momento del ballo ancora più speciale, la macchina del fumo, i braccialetti fluorescenti, il regalo per tutti i bambini e 30 minuti extra per far durare questa festa mezz'ora in più e vivere ogni singola attività con calma e nel migliore dei modi. Tutto quello che ti ho appena descritto costa solo 349 euro, sempre tutto incluso nella città di Catania e provincia e al solito se sei a più di 15 km di distanza un piccolo costo extra solo per ricoprire le spese di benzina. Se vuoi renderla ancora più speciale beh siamo a tua completa disposizione per venire incontro alle tue richieste e alle tue esigenze specifiche. Per informazioni, prenotazioni o richieste su misura il nostro servizio clienti è attivo da lunedì al sabato dalle 10 alle 21. Puoi contattarci telefonicamente, tramite whatsapp e via email attraverso i nostri social. Insomma, ci sono mille modi per venire in contatto con noi e siamo sempre super operativi per risponderti nel minor tempo possibile. Grazie per essere stata con me fino alla fine e ci vediamo presto al nostro prossimo evento per bambini che stiamo organizzando. Ciao! Ciao!